Rigetta le accuse, vuole allontanare il sospetto, ma la procura di Rovigolo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Un'accusa pesante, un macigno per Mohamed Babri, il marito di Samira Ella Attar, la mamma marocchina di 43 anni, scomparsa lo scorso 21 ottobre dopo aver portato la figlia a scuola. Inghiotta nel nulla, una sparizione anomala per una donna che per nessun motivo avrebbe abbandonato la figlia. Il marito ripete di essere innocente, di non sapere dove sia la consorte, di amarla. Lo ha detto sin da subito in varie interviste e lo ripete ora che però deve difendersi da accuse pesantissime. Le ricerche erano iniziate subito intorno alla casa dei coniugi. Il campo vicino all'abitazione è stato perlustrato con i cani molecolari, rivoltato con gli escavatori e ancora passato al setaccio con il georadar, capace di individuare indizi fino a tre metri di profondità nel sottosuolo. E se la procura di Rovigo ha deciso di procedere con l'iscrizione, significa che qualcosa è emerso, qualcosa di drammatico. Il provvedimento sarebbe stato emesso qualche settimana fa, ma la notizia è stata comunicata nelle ultime ore dal legale del marocchino, che diventa il principale sospettato. Ora non rilascerà più nessuna intervista e si mette a disposizione delle autorità, riferisce il suo avvocato Daniele Pizzi.